Una mostra sulla innovazione nella didattica, perché la scuola è il luogo delle grandi scoperte, della novità, ma rischia talvolta di essere anche un luogo di incredibile conservazione. Allora, grazie a Indire, l'Agenzia Nazionale per la Didattica, per la Ricerca, si può davvero fare un lavoro straordinario. In questa mostra è testimoniato come la didattica cambi con il tempo, si debba avere la forza e la capacità di abbandonare vecchi modelli, sceglierne nuovi e sperimentare. Le nostre radici sono la possibilità del nostro futuro, come recita il titolo della mostra, appunto, Radici di futuro. Grazie a Indire per averla organizzata e per curare l'innovazione nella didattica da sempre e ancora per molti anni, ci auguriamo.